Il cuore in uno zingaro non è solo la canzone di Nada che mi ha fatto innamorare da bambino, ma anche il titolo della mia commedia gialla, che però, come in quella canzone, come i violini iniziali, ha una vena di malinconia che accomuna tutti i miei romanzi. Chi sono io è una bella domanda, quindi la risposta è non lo so. Sto cercando di capirlo e scrivere è una delle cose che un po' mi aiuta a capirlo, ma ho proprio dei piccoli lampi di lucidità che durano pochissimo, il tempo giusto di o una tazza di tè o un calice di vino a seconda dell'orario. Però tendenzialmente sono una persona che ama vivere, ridere e commuoversi, che poi sono le cose che si ritrovano anche nelle cose che scrivo. Sono le mie corde, l'ironia e la malinconia, che sono fondamentali per poter godere appieno di ciò che ci circonda. Un romanzo è un giallo, è un giallo ma come sempre quando io racconto le cose, le racconto mettendoci anche le cose che mi piacciono, quindi la commedia. Volevo vedere se ero in grado di scrivere un altro giallo, perché il primo giallo mi è venuto, devo dire mi è riuscito, adesso non voglio farmi complimenti da solo, però nessuno si era accorto di chi aveva ammazzato la mia prima vittima, che era una tata peruviana. Mi ero affezionato a questo maresciallo e a sua moglie Felicetta, il maresciallo Clemente, che è di Polignano, che sta per andare in pensione. E avevo iniziato raccontando la mia seconda avventura in un paese vicino a Polignano, che è Monopoli. E poi mi sono però reso conto, mentre scrivevo, che stavo scrivendo un po' in automatismo, la cugina, la zia, la cosa, il panzerotto. Cioè, e ho detto no. E ho detto, cosa c'è di più lontano della Puglia? L'Alto Adige. Io ho un'origine veramente triste, io non avevo nessuna vocazione. Cioè, io sapevo solo di essere più bravo degli altri a scrivere. Quella era la sfida della mia vita. Mi avessero detto, giocati la vita su una cosa, avrei detto il tema. Ma di lì a scrivere, a pensare di poter scrivere un romanzo, no. Perché l'unica cosa che mi veniva in mente era scrivere della mia vita, che poi è quello che fanno anche molti autori, ahimè, anche oggi. E io ho avuto però la fortuna che uno, mio compagno di Università Marco Ponte, aveva scritto una sceneggiatura. E la sceneggiatura era Santa Maradona, dove io, tra l'altro, interpreto il ruolo di un libraio, e mi ha chiesto di leggerla. E io ho capito come lui aveva trasformato la sua esperienza nella finzione. E quindi dopo dieci pagine ho detto, vabbè, ma allora se l'ha fatto lui lo faccio anch'io. Quindi io ho iniziato a scrivere per sfida, e credo che la presunzione sia necessaria per tutti quelli che vogliono scrivere, è fondamentale. Tu devi avere la presunzione di essere più bravo degli altri, altrimenti è meglio che non inizi. Questo è un pensiero forse un po' scomodo, ma io lo penso. Ho avuto un altro perbileggio nella vita che è stato quello di fare il pubblicitario, ho fatto il copywriter. Negli anni in cui era uno dei sogni, cioè chi aveva una laurea come me, lettere moderne, tecniche della comunicazione, fare il copywriter era il massimo dell'ambizione. E devo dire che è stato ancora adesso una delle esperienze più utili per me, perché tu impari, quando fai e rifai, innanzitutto a raccontare le cose da più punti di vista, perché è proprio un esercizio creativo, dall'altro ad accettare i no, non mi piace rifarlo, perché non mi piace. E quindi ancora adesso io mi circondo di persone molto serie, molto severe, e che metto nelle condizioni di potermi criticare, senza pensare che io sia chissà chi. Per cui questa è una cosa che mi ha molto aiutato. No, in realtà io non rileggo i libri. I libri a cui sono apprezzionato sono sempre, in genere, tre. Il primo, che è Instant Love, Io che amo solo te, perché è il libro che mi ha cambiato la vita in tutti i sensi, e l'ultimo. Poi ogni libro è diverso. In realtà io scrivo un po' sempre lo stesso libro, ma sono sempre tutti diversi. Sì, la malinconia fa parte di me. Certo che ha piccole dosi, non è che possiamo vivere sempre così, se no... Però la malinconia è quello stato d'animo che ti permette di vedere la poesia della vita, anche nelle cose... Soprattutto per quanto riguarda il tempo che passa. Se ci pensi, la malinconia è sempre legata un po' al passato. Come dice Agatha Christie in quell'epigrafe che ho scelto, quei momenti improvvisi in cui tu dici, mi ricordo, è quel piccolo, quel sottile piacere o dispiacere, se vogliamo citare Battisti. Ma diciamo che il segreto è sempre quello di scrivere una cosa che ti piace. Come quando fai un regalo. Quando fai un regalo, allora, o è un grandissimo budget, no? E allora vai in gioielleria e non sbagli, compri il diamante, è facile. Oppure devi tenerci molto alla persona. Se tu ci tieni molto alla persona, tu puoi avere 10 euro, ma vai a stampare una foto che cerchi con cura e attenzione dal telefono, la vai a stampare e la incornici. E quello è un bellissimo regalo, è che però tu fai solo se ci tieni. Quando tu ci tieni, non hai bisogno di... E se tu ci tieni i tuoi lettori, non devi avere paura di loro, non devi pensare a loro, tu devi pensare a te. Perché se tu stai bene, loro stanno bene.